Abbiamo appena concluso il punto nell'unità di crisi per il monitoraggio delle attività di contrasto agli incendi boschivi. Stanno operando i nostri Canader sia in Sardegna sia in Sicilia e sono stati attivati ulteriori mezzi del meccanismo europeo. I team greci sono già arrivati, i team francesi sono in arrivo ed entrambi questi moduli antincendi opereranno nella mattinata di oggi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha inviato anche un ulteriore team per il supporto alle attività dell'isola in Regione Sardegna.